Ente Concerti di Pesaro presenta la rassegna Interludio all'interno di Miral Teatro d'Estate. Giovedì 29 luglio alle ore 21 presso l'Anfiteatro del Parco Miralfiore, Giorgio Tirabassi and Hot Club Roma in Django Reinhardt, il fulmine a tre dita. Spettacolo di musica e parole che racconta la vita del più grande jazzista europeo. Biglietti disponibili su vivaticket.com per informazioni Ente Concerti 0721 32 48 2